Siamo diventati un centro di eccellenza internazionale per l'impianto di protesi al pene e vogliamo comunicare con i nostri pazienti o con tutti quei pazienti che si accingono ad effettuare un impianto di protesi al pene quello che realmente potrà essere il risultato finale, quali possono essere le complicanze della chirurgia, quali possono essere gli effetti collaterali e come gestire tutta una serie di problematiche post-operatorie. Parleremo di fimosi del pene, parleremo di varicocele, parleremo di infertilità di coppia, tutti quegli argomenti andrologici che riguardano prettamente la sfera sessuale maschile saranno sviscerati da noi qui in questo piccolo spazio web che vogliamo creare e dedicare a tutti coloro che ci seguono, siete tantissimi online. Grazie, a presto, ci vediamo, vi aspetto numerosi con le prime domande. Grazie. Grazie a tutti.